Ci puoi fare la tua analisi, la tua opinione su questa partita perché comunque sono state due partite, una in 11 contro 11 e la seconda in inferiorità numerica. Ecco, partirei dalla prima forse in cui avete messo in difficoltà l'Inter o comunque avete tenuto la partita aperta in equilibrio totale, nella seconda invece è venuta fuori la squadra dell'Inter con anche un uomo in più, abbiamo parlato anche con Daversa, è difficile fare di più in inferiorità, però forse sui gol, sui singoli episodi qualcosina potevamo fare ma non voglio rimproverare i ragazzi. Tu come l'hai vista? Sì, l'analisi è questa, nel senso che il primo tempo abbiamo tenuto bene il campo anche creando qualche bella ripartenza dove abbiamo messo anche paura all'Inter e poi secondo tempo come ha detto anche il mister, ma ne avevamo parlato anche in spogliatoio, sicuramente secondo me su un paio di occasioni sui gol potevamo fare di più e senza dare nulla per scontato come dobbiamo fare del resto su ogni pallone perché una squadra come la nostra non si può permettere di, adesso questo è un discorso generale, non si può permettere di regalare niente soprattutto quando giochi contro squadre come l'Inter questa sera perché poi come abbiamo visto più di altre squadre non ti perdonano il minimo errore, quindi adesso arrivano due partite per noi fondamentali che saranno due scontri diretti dove dovremo cercare di fare i più punti possibili e questa sera è stata la dimostrazione che il margine d'errore per noi deve essere quasi zero. Ciao Mattia, senti io ti chiedo come giudichi la tua prestazione, ti ho visto entrare molto bene, quando sei arrivato hai detto questo sarà un anno importante perché è l'anno in cui devo ridimostrare di essere Mattia del Sciglio, oggi l'hai dimostrato in parte ma dalla prossima tocca a te perché Goldi sarà squalificato, toccherà quindi a te, da lì puoi iniziare un nuovo percorso per Mattia? Sì, lo spero nel senso perché ho tanta voglia di giocare però io come ho detto al mister già dal primo giorno io do la mia disponibilità al 100% poi le scelte le fa lui, io sono venuto qua con tanta voglia di rimettermi in gioco come disse il primo giorno e per cercare di portare anche la mia esperienza a questo gruppo di ragazzi che lavora bene ogni singolo giorno, lavora duro e secondo me merita tanto anche dal punto di vista di risultati e nonostante appunto le ultime partite qualcosina abbiamo lasciato, ho tolto ovviamente stasera però secondo me siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Io Mattia ti chiedo se essendo un po' uno dei più esperti del gruppo, questa è una domanda l'ho fatto anche il mister, il mister è un po' svicolato, se eventualmente hai parlato con Goclicizze, se l'hai diciamo così in qualche modo rincuorato diciamo così perché insomma sembrava molto dispiaciuto poco quando è uscito e credo che forse il primo a rendersi conto di mettere in difficoltà la squadra. Sì, in realtà non c'è molto da dire nel senso che è normale anche lui, cioè è normale che sia lui il primo a essere dispiaciuto, purtroppo episodi come questo con le regole che ci sono adesso non perdonano nel senso poi chiaramente non è stato un fallo brutto con il suo intenzionale perché voleva far male, lui ha fatto il movimento per cercare di andare sul pallone, è stato anticipato però ripeto con le regole che ci sono adesso basta che il piede sia un pochino più alto come è successo a lui e purtroppo poi diventa inevitabile la decisione del cartellino rosso, può capitare a tutti insomma, è normale che sia dispiaciuto però sono cose che possono capitare e allo stesso tempo per noi non deve diventare un alibi l'essere rimasti in dieci, è vero che giocavamo contro l'Inter e abbiamo tenuto bene il primo tempo però come ho detto prima su un paio di gol potevamo anche fare meglio insomma, non è stato l'uomo in meno che ci ha portato a prendere quei gol lì. Ciao, al di là del risultato di oggi ti chiedo qual è secondo te il margine di crescita della squadra e quello personale di De Sciglio? Ma secondo me il margine di crescita di questa squadra c'è ancora perché comunque esprimiamo un bel gioco e secondo me raccogliamo anche in fase realizzativa meno di quello che creiamo perciò sicuramente su quello è una cosa che su cui possiamo migliorare ci sono margini di crescita e per quanto riguarda me ovviamente sono convinto che adesso iniziando magari a giocare con più continuità inizio anche a stare meglio a livello di condizione e a livello di fiducia e quindi mi auguro di come è il mio obiettivo di poter dare il contributo alla squadra. Ciao Mattia, buonasera. Ci racconti i tuoi primi mesi di Empoli? Sì, sono stati mesi sicuramente molto positivi fin dal primo giorno a livello di approccio mio ma anche di accoglienza che ho ricevuto e la cosa che mi fa molto piacere diciamo è essere come vengo considerato nel senso è una cosa che inizialmente mi ha fatto strano però allo stesso tempo mi ha fatto molto piacere perché ho percepito comunque l'importanza che mi è stata data e diciamo anche l'essere visto come posso dire un punto di riferimento per quanto riguarda comunque la mia esperienza e quello che posso dare a questa squadra quindi sono molto contento.